buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale breve video per portare l'attenzione su un videogioco per blocene irisov ma via un classico game in suo blog chain molto simile a clash of clan dove essendo un videogioco basato su un fd e con un token economy al suo interno sarà possibile vendere terre nfc avere dei premi in token e anche convertirli in euro eventualmente qualora volessimo stanno lanciando anzi hanno appena lanciato la stagione pioneer airdrop 1 e parteciparvi è veramente semplice il 6 febbraio avverrà il tg e il token generation event e entro e non oltre i 14 giorni dopo il tg e è possibile richiedere il claim tramite il loro sito internet di una parte di un airdrop giungibile all'indirizzo ma via punto com e come potete vedere dal mini video in sovraimpressione è molto molto simile a clash of clan ma con questo gioco potremo andare a guadagnare avevo già parlato di ma via in anteprima alcuni mesi fa erano anche discusso sulla community privata su youtube in un paio di post vi ricordo chi volesse partecipare alla community privata dove vengono condivisi articoli airdrop in anteprima consigli nel mondo block chain e il canale è su abbonamento da 99 centesimi al mese quindi non più caro di un caffè se volete partecipare trovate il link abbonati direttamente sul canale youtube sia da telefono e sia da desktop questo videogioco è disponibile sia per google play store scaricabile da google play store sia per ios come da titolo potete immaginare che ci saranno diverse stagioni per l'air drop ci saranno magari incentivi perché ha acquistato le lende per chi andrà a mettere in stechi il token e addirittura come in questo caso uno 0,5 per cento la tutta supply del token destinato a chi scarica il gioco su ios e su android e va semplicemente a sincronizzare il gioco con l'account creato sul sito di mavia la fornitura totale al tg e sarà di per un valore di circa 30 milioni di dollari e pari al 12 per cento della totale supply e bensì la locazione per i vari airdrop sarà del circa 30 per cento sul totale della fornitura un gioco di grande successo visto anche il successo che ha avuto clash of clan e ricordo chi sta investendo i partner all'interno di questo videogioco su blog cene che abbiamo il calibro di bainas lab cripto punto com ovviamente animo ca brands yield guild che una delle community più grandi e potenti nel panorama videogiochi su blog cene e diversi venture capital come molte volte accade di menzionare nome altissolanti di partner in questo caso ho verificato è realmente quelle che vediamo scritti hanno partecipato aderrando i privati di finanziamento di questo videogioco come potete vedere in sovraimpressione vi lascio comunque il link in descrizione c'è una guida passo passo direttamente di mavia game come partecipare a layer drop divisa in step step 1 il download dell'applicazione step 2 vi fa proprio vedere come andare a creare l'account in game step 3 come finire l'onboarding tutorial quindi bisogna finire il tutorial di presentazione lo step 4 andare su mavia punto com e andare a connettere il nostro wallet come ad esempio metamask vi ricordo che per fare poi il claim dell'air drop occorrerà avere qualche dollaro di etirium all'interno del nostro metamask quindi ricordate di caricare eventualmente o comunque sempre buona cosa avere un pochino di token gas all'interno del portafoglio e andare a sincronizzare il nostro account che stiamo creando sul sito con l'account del videogioco mi raccomando seguite gli step passo passo come vi fa vedere all'interno di questo video tutorial questo è importantissimo perché sennò non sarete elegibili all'air drop e l'air drop sarà sempre claim abile all'interno del portale del videogioco quindi nulla di difficile vi ricorderò solo che il tg è il 6 febbraio e dovete claimare l'air drop non oltre i 14 giorni successivi quindi fatelo in fretta non fate scadere le date musica musica musica